siamo alla fine della valle smeraldo io chiamo boss anche se qua ve lo zondo un attimo c'è scritto capo niente la telecamera fa apricci e lo fa vedere insomma che è un serpente marino se non ricordo male ah no è un verme marino no duello spiro il serpente marino spiro come il draghetto si lo so correggetemi quanto vi pare a chiamarlo si chiama spyro si chiama spyro non è vero secondo me non è vero dovete usare la tecnica della fusta alla testa no alla coda ora ricordo e va il primo colpo è andato si è arrossata la coda la mina ma sei sleale del bresto ne sono anch'io no 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 sto facendo un po' di confusione torna su vigliacco torna su post per scopo ok no sto perdendo anche troppo tempo il serpente lancia le palle dove siamo noi? no le lancia casacce no ora le sta lanciando dove siamo noi forza forza su un punto con la frusta sarà morto si è morto che cazzo è durato ma è stato un duello anche fin troppo lungo 5 acrosoldi ok agento grattafuoco la mappa grattafuoco è l'ultimo mondo dell'area atletica ok ragazzi ci vediamo nel prossimo video con grattafuoco